Ho scelto come con una sonora le canzoni di Ariurgento Ed è un montatore bravissimo, oltre che una persona squisita Le musiche che tra l'altro sono piaciute molto Devo dire, ieri sera durante la proiezione Ho avuto molti complimenti Sono di Natale Massara Che è un grandissimo, anche lui, musicista del panorama italiano E ha lavorato con tutti gli artisti più grandi E lavora tuttora con Milva Però ha lavorato in passato con Celentano Con Mia Martini e con tanti altri E vorrei ringraziare in modo particolare L'editore della parte musicale Che è la Caffè Concerto Italia Nella persona di Luigi Montiarduili Che ha creduto molto in questo progetto E ci ha dato una grossa mano E anche loro sono una società molto molto importante Nel panorama di case editrici musicali italiane Ho finito Però volevo ricordare ancora la truccatrice io La truccatrice? Marianna Zambenedetti Perfetto L'abbiamo fatta diventare un mito Un mito Un mito Un personaggio di un po' Un mito E metteremo fatture Ci faremo dare un gettone Per la promozione Per la pubblicità che le abbiamo fatte Bene, andiamo da Emy Emy, una cosa Qual è il tuo rapporto con le notizie di Cronaca Nera? In generale Perché a parte questa è una fiction effettivamente Quella è la vostra È una finzione Però effettivamente è ispirata a un qualcosa di vero È stata un po' romanzata Noi comunque abbiamo dato un finale chiuso Abbiamo identificato un colpevole Nella realtà questo non c'è stato Quindi abbiamo lavorato un po' di fantasia Allora, qual è il tuo rapporto con le notizie di Cronaca Nera? A parte quelle del passato Che magari conosci per storia tramandata in qualche modo E quelle magari di oggi Perché tra l'altro è cambiato proprio il modo In cui vengono date in pasto Proprio agli utenti televisivi Ecco, agli utenti dei telegiornali Forse non condivido molto effettivamente Come del resto penso neanche Pierfrancesco Il modo come oggi si affrontano le notizie di Cronaca Cronaca Nera direi Ma guarda, io devo essere sincera Per la mia giovane età Ogni volta che vedo il telegiornale Ho il mal di stomaco Proprio perché ne stanno succedendo di tutti i colori ogni giorno Ogni giorno si sentono omicidi E cose veramente assurde Soprattutto di famiglia Sicuramente non le vivo bene Come penso che nessuno le viva bene È ovvio che comunque vuoi o non vuoi Ne resti fuori perché non sei il protagonista di quella storia La condividi in parte Ne soffri perché sai che potresti comunque essere te nella vita Quindi a livello umano il rapporto sicuramente non è bello Riguardo invece di un film È bello parlarne Perché sicuramente come dice Pierfrancesco La cosa importante, la cosa che affascina soprattutto È questa ambiguità dell'uomo Nel senso questa parte oscura appunto che forse è in ognuno di noi C'è chi la tira fuori, c'è una scelta nella vita Chi ascolta più la parte buona, la parte felice C'è chi invece ascolta la parte più brutta di noi stessi E quindi a volte ne dobbiamo fare i conti Insomma ecco questa è come la vivo Sì comunque io penso che gli istinti di aggressività sono in ognuno di noi Ognuno di noi è una parte oscura E poi sta a noi riuscire a reprimere nei tempi e nei modi opportuni Appunto quella parte che è bene che resti dentro perché altrimenti Ma noi siamo cresciuti Pierfrancesco così tramite un'etichetta sociale Tramite ciò che c'è stato insegnato insomma Se fossimo stati lasciati forse liberi questa parte animalesca di noi Senza la razza appunto che Insomma infatti condividiamo tutti Se non ci fosse la razza forse succederebbe ancora peggio Sì certo certo Però c'è da dire che negli ultimi tempi Un po' tutta la società in tutte le sue manifestazioni È diventata più cattiva, più spietata È diventato difficile vivere È diventato difficile C'è molta intolleranza, molto cinismo, molto egoismo E sta uscendo veramente il lato Senza arrivare ecco agli eccessi di omicidi eccetera Però anche nel vivere quotidiano è diventato difficile Non c'è rispetto, non c'è educazione C'è molto menefreghismo no? Per tutti quelli che sono i problemi degli altri Cosa c'è una dose di aggressività sicuramente molto più esagerata Diciamo che al di là di tutto Siamo diventati tutti un po' più cattivi Poi certo non tutti uccidiamo Però forse metaforicamente sì Ognuno di noi se si facesse un esame di coscienza Si renderebbe conto che durante la giornata Quante volte passiamo sopra metaforicamente a dei cadaveri Perché pensi che sia successo questo? Perché c'è una grande insicurezza Fondamentalmente c'è Insicurezza ma io penso anche una cosa che siamo abituati ad avere ormai tutto Esatto Da una parte siamo abituati ad avere tutto Le cose non ce le conquistiamo Ma le cose quasi ci spettano di diritto E soprattutto le nuove generazioni che hanno tutto Forse troppo Non hanno il senso del sacrificio Non hanno il senso della conquista delle cose E c'è un bombardamento continuo da parte dei mezzi di informazioni Che ci propongo dei modelli di vita Che sono assolutamente fittizi, illusori Quindi i giovani pensano che la vita sia uno spot pubblicitario In realtà è molto diverso Poi quando si trovano a uscire fuori dalla famiglia Quindi dal guscio protettivo della famiglia Si trovano a contatto con una realtà che spesso li stridola Perché non sono preparati ad affrontare le difficoltà della vita Perché la vita è fatta di difficoltà Tu hai detto che prima noi siamo molto più cattivi adesso Sicuramente sì Anch'io mi sento Tanta incertezza per il futuro E quindi diventiamo tutti più cirici Perché abbiamo tutti più paura In realtà abbiamo paura di noi stessi E quindi ci proteggiamo in qualche modo aggredendo Però io vorrei chiederti una cosa Tu hai detto che nel corso degli anni Adesso siamo diventati tutti più cattivi Io perlomeno mi sento tale Scherzo Scherzo a parte adesso Però non pensi che attualmente le notizie Forse vengono un po' più spettacolarizzate Rispetto al passato Perché non è che quando Jack Lametta Sfreggiava quattro ragazze al giorno Quattro ragazze, donne, uomini anche Magari si era più buoni allora perché Jack Lametta Vabbè quello è un altro discorso Il discorso Però mi sembra che Gli omicidi non è che siano diminuiti Ma ormai è gossip Non sono omicidi La televisione deve fare ascolto Oggi più che mai Perché all'inizio degli anni Ottanta Il panorama televisivo era diverso Oggi c'è una concorrenza spietatissima Tra i vari network Tra la RAI e le televisioni private E quindi c'è una corsa Alla notizia scioccante C'è una corsa Alla spettacolarizzazione Tutto ciò che può in qualche modo Far leva sugli istinti più bassi Di una collettività Setata di notizie scioccanti Ciò potrebbe essere Un problema di esposizione mediatica Più che di Di note comportamentali Io credo che le cose procedano Di pari passo invece Che la gente è più cattiva E quindi di conseguenza La televisione Che ne ha seconda i gusti Mette ancora di più Il carico da undici Su dei fatti brutti Negativi Perché comunque Sa che la gente Ha una curiosità morbosa Per certe cose Diciamo è tutto collegato Infatti la televisione propone Ed enfatizza Ciò che pensa Che la gente vuole La gente oggi È più cattiva E gli dà delle cose cattive Perché sa che A seconda il suo gusto Comunque Ritorneremo adesso Tra pochissimo Sull'argomento Tra l'altro A parlare anche di Jack Lametta Perché voglio capire Questa cattività attuale In che modo Era insomma Vissuta all'epoca Appunto in cui Siano svolti i fatti Che poi tu Rappresenti Poi nel film Nel corto Io lo chiamerei film Perché effettivamente Non è il classico corto Dove si cerca di capire Per sottintesi Effettivamente è molto Esplicito E si capisce Non è Il genere corto Per motivi di tempo Effettivamente diventa Un po' Quasi da interpretare No il nostro invece Dura 17 minuti Quasi 18 Quindi è già Un minifilm Un minifilm Un film breve forse Che un cortometraggio E comunque poi Ne parleremo Entreremo ancora più nel vivo Del Jack Lametta E perciò mi raccomando Soltiamo intanto La truccatrice ancora Marianna Zambelletti Ciao Marianna La ringraziamo Sei bravissima Ti adoriamo La linea adesso passa Alla regia Per uno stacco pubblicitario E subito dopo Ci ascoltiamo Un altro brano musicale Un altro brano musicale Sempre dei Demonia Ed è la corona sonora Di un grandissimo film Che appunto Fenomena Che è appunto Fenomena E la canzone Il pezzo Il brano Si chiama appunto Fenomena Prima pubblicità E poi Fenomena Radio Roma Al centro Delle tue emozioni Ci ha voluto Strammatizzare La musica di Fenomena Con una esinerante Interpretazione di Benigni In Johnny Stecchino Che in qualche modo Aveva anche lì Del Non dico del thriller Però insomma Un thriller diciamo comico Direi quasi Beh parlare di thriller In quel caso Mi sembra Poliroga Non c'era qualcosa di Thriller non è assolutamente Il termine Come lo chiameresti Francesco Tecnicamente Tecnicamente lo chiamerei Una commedia Un po' grottesca Una commedia grottesca Perfetto Critica il nostro Via Francesca Certamente Adesso vediamo Che critiche hai ricevuto Francesco Da questo Ma devo dire Sembrerebbe Molto positive Perché da quello che ho sentito Io ho sentito Tutte critiche positive Sì devo dire Non me lo aspettavo A parte che Quando si fanno Quest'ultime proiezioni Bisogna sempre mettere Una specie di Tara